Non lo sapeva io. Oggi, grazie alle curiosità di Gianni Petri e di Susanna Feriozzi, andiamo a vedere un paio di documenti, ma poi parleremo anche di altri documenti, fondamentali per la comprensione, in parte ovviamente, del territorio di Formello, ma per tutta una serie di motivi, anche del territorio veientano. Per quale motivo? Perché vediamo questi due documenti, uno è lo Statuto di Formello del 1544 e l'altro è il Catasto Chigi, sempre delle terre di Formello, del 1686. Tra l'uno e l'altro passano circa 140 anni e in questi 140 anni riusciamo a dare una fotografia, insieme a tutta una serie, come vi ho detto, di altri documenti, di come vivevano le persone. Questa è la cosa principale, qual era la vita quotidiana. E questi documenti, diciamo, anche se sono documenti uno legislativo e l'altro fiscale, ci permettono di comprendere integrando tutte le informazioni, la vita quotidiana delle persone. Allora, per fare questo ho avuto anche più volte l'accesso all'archivio storico di Formello e insomma è un dovere, oltre che un piacere, ricordare Maurizio Rapagnani che a lungo lo ha gestito, curato, salvato e che oggi non c'è più, ma insomma lui conosceva veramente tutte le carte di Formello in maniera veramente profonda ed era sempre un piacere parlare con lui. Beh, insomma, oggi in particolare essendo proprio oggi il caso, ha voluto i quattro anni dalla scomparsa di mio padre, volevo appunto ricordarlo con affetto e anche con sincero ringraziamento, perché nel 78, un anno prima che nascessi, fece questa sorpresa mia madre, mi disse guarda ho comprato una casa a Formello, proiettandola in un pianeta sconosciuto e grazie a questa voglia di andare fuori da Roma, voglia di libertà che io sono nato qui e che ho poi apprezzato questo grazie a lui e grazie a forse una predisposizione anche però, insomma, ciao Paolo. Insomma, comunque da archeologo, che cosa fa un archeologo? Un archeologo scava la terra solitamente, però non può, soprattutto se si confronta con l'archeologia dei borghi, non può prescindere da tutta una serie di documentazioni fondamentali per la comprensione di quello che troverà e quindi scava anche negli archivi. Diciamo che l'idea è la stessa, si cerca il testo più recente e poi si va indietro, sempre più indietro, come uno scavo stratigrafico, andando a vedere qual è il testo più antico e poi dopo si ricostruisce la storia rimettendo in fila il tutto. E mi è capitato di confrontarmi con i testi antichi, non solo a Formello ma anche in altri luoghi, diciamo, del nostro territorio e di trovare poi conferma o spiegazione di quello che trovavo scavando. E questo è veramente eccezionale. Ma arriviamo al nocciolo della questione. Il primo testo di cui vi parlo è pubblicato, eccolo qua, Noemi Antonini, lo statuto di Formello. Questo è lo statuto di Formello del 1544. Siamo nel Rinascimento, siamo nello stato degli Orsini e siamo, diciamo, in una fase particolare perché è morto Girolamo Orsini, il padre di Paolo Giordano, quello che sarà il primo duca del ducato di Bracciano, e però lo stato già esiste, lascia praticamente la moglie, madre del piccolo Paolo Giordano, del giovane Paolo Giordano, come tutrice e amministratrice degli Orsini. E quindi c'è questa Francesca Sforza di Santa Fiora che praticamente governa, grazie anche al cardinale Guido Ascanio Sforza, che insomma è il fratello che gestisce la cosa. In questa fase comincia questo momento degli statuti all'interno del futuro ducato, dello Stato. Quindi il primo è lo statuto di Campagnano, 1535. Poi ci sarà quello di Formello del 44. Poi arriveranno quello di Anguillara, di Bracciano, di Trevignano e l'ultimo che conosciamo, quello di Cerveteri del 61. Quindi nel giro di 25 anni vengono concessi questi statuti. Ma perché concessi? Perché prima non c'erano delle leggi scritte che governassero la comunità. E quindi in qualche maniera sì c'erano delle consuetudini, ma insomma proprio tutte le leggi scritte non c'erano. E questi statuti più o meno si somigliano tutti, anche se poi ci sono delle applicazioni differenti da terra a terra. Qui in questo caso abbiamo una serie infinita di leggi e sono 472 che regolano tutto il vivere civile, regolano tutto ciò che poteva accadere da ovviamente l'amministrazione pubblica, come funzionavano le pene, come funzionavano i processi, come funzionavano l'eredità, le società, tutta l'organizzazione umana. Facciamo un esempio di una legge contemporanea. È obbligatorio portare il casco. Questo che vuol dire? Che se devo fare una legge vuol dire che c'è tanta gente che va in giro senza casco. Quindi dobbiamo immaginare che tutte queste leggi ponevano un freno a consuetudini comportamentali dannose per se stessi o per gli altri. Quindi leggere questo statuto ci porta proprio nella quotidianità del Ducato di Bracciano, in particolare di Formello. E insomma Gianni Petri, che mi ha fatto la domanda, era stupito quando ho parlato dei cani di Veglio, diceva che sembra di, siccome avevo postato un'immagine sul profilo Facebook, un'immagine tratta appunto da questo libro, dice che sembra di leggere parole citate da Branca Leone, da Norcia. Allora ho detto vabbè, quasi quasi ne leggiamo un altro po' così magari ci divertiamo. Allora, come dicevo, c'era un po' tutto il vivere civile. C'era un vicario che veniva nominato direttamente dagli Orsini. Questo vicario doveva giurare nella chiesa di San Lorenzo. La sua carica durava sei mesi, ma poteva essere protratta oltre altri sei mesi, dopodiché decadeva. Secondo me già inizialmente, dobbiamo aspettare la trascrizione del catastro del 1559, catastro quindi sotto il periodo degli Orsini, che è affidata a Susanna Passigli. dobbiamo vedere se questi vicari erano proprietari di terre. Nel catastro del 1686, quindi già in età chigiana, il governatore o vicario di Formello solitamente era straniero, non era formellese, era forestiero. Quindi, diciamo, una persona che veniva da fuori e che amministrava la giustizia per conto del feudatario. Questo eleggeva quattro massari, che erano una sorta di assessori dell'epoca, e questi massari poi eleggevano a loro volta altri quattro sindaci, che erano una sorta di consiglieri comunali, e poi tutti insieme nominavano tutta una serie di altre figure, i viali che si occupavano delle strade, i santesi che si occupavano delle chiese, eccetera, eccetera, eccetera. E poi c'era un consiglio allargato, diciamo, dei 40, in cui 40 persone di Formello, ritenute maggiorenti, si incontravano e ponevano delle questioni da portare poi agli amministratori. Quindi c'era una sorta di consiglio comunale che si riuniva in una sala della comunità, che però non abbiamo, diciamo, ancora capito bene quale fosse, e insomma si riunivano periodicamente ogni tre, due mesi circa, però non mancavano le riunioni, diciamo, d'emergenza, no? Straordinarie. E questo più che altro si vede poi in occasione del catastro, diciamo, del 1686. Torniamo allo statuto. Come dicevo, lo statuto regola tutta la vita civile, no? Le doti, come si gestisce un orfano, insomma, tantissime cose, però ci sono anche questioni proprio di vita quotidiana, delle taverne che si debbiano chiudere nel venerdì sancto. Ancora statuimmo e tordinamo. Praticamente ogni articolo inizia con ancora statuimmo e tordinamo, quindi insomma va in successione, in progressione. Che li tavernari, i quali sono dentro o di fuori alla porta del castello di Formello, quindi sappiamo che c'erano taverne dentro al castello e taverne fuori? In reverenza della passione del nostro Signore non abbiano a dire, et ne presumeno nel dì del venerdì santo aprire le loro taverne, finché non siano celebrati et finiti gli divini uffici per tutte le chiese del detto castello, sotto la pena di cinquanta soldi per volta. Et contra di loro si proceda per l'ufficio, et il medesmo abbia ancora loco, contra li fornari, mollinari, speciali, speciali sono, pizzicaroli, calzolari et l'altri artesciani. Quindi tutti dovevano chiudere il venerdì santo, mi sembra una sorta di corretta imposizione, ma ci sono tutte le regole per la caduta delle acque dai tetti, per la pulizia delle strade, delle munnezze che si buttano innanti alle stalle che si leveno. Ancora statuimmo d'ordinamo che quando alcuna bruttezza sia stata butta dagli patroni della casa di sopra innanti alla porta di grotte o di stalle, gli patroni della casa di sopra debbiano levarla et nektarla a registione di li padroni delle stalle et delle grotte. A ciò comodamente possano entrare et uscire nelle dette grotte et stalle et qui che averà mancato, sian puniti in dieci soldi per volta e non vi si proceda senza richiamo. In questo caso c'è una storia molto carina di un formellese che va a vendere le vacche a Bracciano, quindi carica le vacche, le fa partire questo convoglio di vacche e quindi a piedi parte e le porta a Bracciano e dice alla moglie di approfittare del fatto che la stalla fosse vuota, siamo sempre nello stesso periodo, per pulirla. La moglie la pulisce ma lascia tutta la roba della stalla, immaginate, fuori dalla stalla e ovviamente questo ritorna e si trova punito per questa azione della moglie, però la punizione sarà depenalizzata proprio perché anche nello statuto c'è scritto che le donne devono essere punite in maniera minore perché purtroppo questo statuto del Cinquecento e la concezione dell'epoca era quella di una minore capacità della donna della comprensione dei fatti della quotidianità, parliamo di Cinquecento anni fa, però dobbiamo porci anche nella condizione di conoscere quello che studiamo e quindi la donna all'epoca era considerata un essere non in grado di intendere e volere come l'uomo, però comunque aveva tutta una serie di diritti e di rispetti, insomma. Però vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, abbiamo detto degli animali, dei cani, ah bello questo, sui giocatori, c'è tutte delle regole sui giocatori che non devono, come devono giocare, come non devono giocare, che non si devono usare dadi o carte false, dei bari, ah questo è bello, di quelli che tirano per il castello di Formello, allora lo statuto noi lo conosciamo perché fisicamente ce l'abbiamo, è stato trascritto ma è esposto nella sala 6 del museo di Formello. Allora abbiamo lasciato aperta una pagina dove c'è questa norma che dice ancora statuimmo e t'ordinamo che a niuno sia lecito tirare con l'arco schioppo o con la balestra le frezze o ballotte ai palombi, alle galline per il castello di Formello, o buttare i saxi con mano come i pazzi ad alcuno animale o in casa di qualunque sia, sotto la pena dei cinque soldi per volta e ti si proceda, per ogni dì e t'ora. Praticamente quindi c'era gente che andava in giro armata con le balestre, gli archi e tutto quello che ha descritto, per uccidere volatili, insomma, con gravissimo danno possibile a chiunque e anche con danno economico perché spesso i piccioni sono di allevamenti privati. vediamo, vediamo, vediamo. Abbiamo detto dei cani che devono portare gli uncini. Questo? Vabbè, insomma, sui malefici, poi dopo lo vediamo. Ah, bello, bello, bello. Di quei che feriscono con l'arme di ferro overferrate. Praticamente ce ne sono tutta una serie di regole su chi porta le armi e su come queste armi possono far male e su come se le devi portare di giorno, di notte. Insomma, si girava armati, l'abbiamo già visto con la caccia ai palombi. Era un mondo ancora abbastanza, come posso dire, sembra un mondo, no, rinascimento così, insomma, felice, ma la gente girava armata e in alcuni casi ne aveva diritto. Dilli giudei che non soffendono per tre dia della settimana santa. Ci sono delle norme anche che regolano il comportamento degli ebrei. Perché, insomma, gli ebrei dalla fine del Quattrocento, cacciati dalla Spagna, da Ferdinando il Cattolico, si riversano nell'Europa centrale e poi scendono, prima passano, diciamo, c'è una forte immigrazione, prima passano da Venezia, dove nasce il primo ghetto nel 1503 e poi a Roma, il ghetto nel 1506. Qui siamo nel 1544 e questi ebrei, che già qualche ebreo c'era in giro nella campagna romana, ma adesso cominciano a formarsi delle vere comunità. E all'interno di ogni singolo borgo queste comunità si ritagliano un loro spazio, in parte legato a prestiti, anche se c'è una regola sul divieto di prestito ad usura, però sicuramente questo valeva per i cattolici e non valeva per gli ebrei, per tutta una serie di motivi religiosi. Però questi aiutavano l'economia, facevano quasi da banca, no? In qualche modo. E quindi c'era una sorta di... ci stanno, però devono stare a delle regole. Per esempio, Il segno che si deve portare dagli giudei. Ancora statuimmo ed ordinamo che gli giudei che abitano nel detto castello di Formello, ovvero che vi stiano per più di tre di, che siano tenuti e debbiano sempre portare il segno di panno rosso nel pecto o nella berrecta, che non si copra dalla cappa o in altro modo, ma che si veggia da tutti sotto la pena dei cinque libri per volta, e la corte per l'ufficio possa procedere e cercare. Quindi, se avevi questo panno rosso sul petto, ma lo coprivi col cappotto, non valeva. E lo doveva essere ben evidente. Insomma, vabbè. Ci sono regole anche più strette, ferree, ma vediamone qualcun'altra che invece ci riporta più a una quotidianità. Ah, vabbè, insomma, abbiamo detto regole civili, ma anche regole penali. Dilli, latroni pubblici et famosi. Ancora statuimmo ed ordinamo che gli pubblici et famosi latroni, i robatori et quelli che assaltano nelle strade che si frequentano, sia in quello a saltare ammazzarando alcuno, o per forza robarando alcuno nel medesimo luogo, si picchiano in tal modo che morano, ovvero che la loro morte si lasse all'arbitrio dell'illustrissimo signore. E si parla di pena di morte. Cioè, il ladrone famoso, quello che spaventava la gente, ce n'erano di questi personaggi, ne abbiamo parlato recentemente per l'Ottocento, ma insomma, c'erano di questi ladroni famosi che aggredivano la gente per strada, che avevano bande. E questi, se venivano beccati, potevano essere anche percossi a morte, oppure essere, diciamo, impiccati. E' pieno di toponimi. Ce n'è uno qui dietro, diciamo, all'incrocio tra la via di Santa Cornelia e via della Selvotta, che si chiama Passo dello Scannato, dove probabilmente uno che aveva subito un supplizio veniva appeso, scannato, a pubblica, diciamo, memoria, in modo tale, a pubblico memento. E poi c'è sopra, tra la valle di Baccano e Settevene, quel colle alto, che si chiama Monte dell'Impiccato, e quindi probabilmente anche lì, lungo la via Cassia, veniva posta la forca, in modo tale che tutti potessero vedere, e, in qualche modo, temere di fare quella fine. E quindi, insomma, ce ne sono di cotte e di crude, ma vediamo un po'. L'ultima che mi ero segnato... Vabbè, insomma, ce ne sono talmente tante che è difficile. Come può aiutare questo documento? ci aiuta perché ci fa entrare nella comunità, ci fa capire tante cose che da qui provengono e che ancora esistono, sia nel nostro ordinamento, ma anche nella quotidianità. E poi ci aiuta perché ci sono un sacco di riferimenti sul territorio che ci permettono di capire come si sviluppasse. Però, insomma, da questo punto di vista, lo strumento migliore è quello di un catastro. Abbiamo detto che c'è un catastro del 1559, sempre a Formello, che sta studiando la mia amica Susanna Passigli e che speriamo ce lo dia presto, ma io ho trovato anche questo, che, insomma, questo è un manoscritto mio, che io aspetto di pubblicare dal 2015, in realtà l'ho trascritto già nel 2010, e quindi, insomma, sono dieci anni che ce l'ho in tasca, questo, e oggi non vi racconto tanto, devo dire la verità, perché aspetto di pubblicarlo, che non vuol dire che sono geloso, ma che vuol dire che una pubblicazione ovviamente passerà anche a un vaglio di un comitato scientifico e quindi darò forza alle cose che dirò e una volta che le avrò dette e messe su una carta stampata saranno poi disponibili per tutti e ne riparleremo molto volentieri. Quindi, Susanna Feriozzi, ti dovrei accontentare di poche spicciole informazioni, però qualcosa vi posso dire, perché in parte ho anticipato questa pubblicazione quando l'abbiamo ritrovato nei Gioformello nel 2009. Insomma, cos'è un catastro? Un catastro, soprattutto come questo, un catastro rustico, non prende in considerazione i beni all'interno delle mura castellane, quindi le case di chi erano, quanti piani avessero, insomma, non ci aiuta molto. Ci aiuta sulla comprensione del territorio, com'era diviso il territorio, com'era gestito, praticamente di proprietà unicamente dei chigi, tranne però tutta una serie di, anzi sono moltissimi, frammenti di territorio di proprietà di privati, o che i privati avevano in gestione, o di proprietà di chiese, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la gran parte delle terre erano dei chigi, però poi c'erano una serie di proprietari, che ho contato, sono circa 120 proprietari censiti, oltre ai chigi, che possedevano almeno un pezzettino di terra, ma ce ne sono alcuni che ne avevano ben tanti. A che serve il catastro? Poi questa data, 1686, io, diciamo, mi sono confrontato con gli archivi locali, e sono andato a prendermi tutti i documenti che ho trovato relativi all'anno 1686, e quindi grazie al catastro, ritrovando tutti i nomi, ritrovando tutti questi documenti, ho fatto una sorta di fotografia dell'anno 1686, e ne sono venute fuori delle cose molto carine. A che serviva il catastro? Serviva per stabilire chi pagasse cosa, di chi fosse cosa, eccetera, eccetera. Ma come strumento è interessantissimo già all'epoca, ma i chigi avevano, secondo me, un altro obiettivo, che era quello di includere all'interno delle terre di Formello tutta una serie di territori esterni, un po' come abbiamo visto con il lago di Baccano, nella puntata in cui parlavamo della posta di Baccano, e serviva appunto questo proprio per ingrandire, diciamo, idealmente il territorio di Formello e creare un territorio che fosse più grande, ma che fosse della comunità. Cioè la comunità doveva essere consapevole di avere un territorio più grande, anche perché ci stanno tutta una serie di Ius Lignandi, Ius Paschendi, Ius Venandi, che sono appunto gli Ius Icivici, Ius Icivici, di cui la comunità di Formello godeva anche, diciamo, per sutterreni esterni al territorio proprio comunale, non comunale, ma insomma territorio di Formello. e quindi tutta una serie di, come posso dire, benefici o diritti della comunità vengono comunque messi all'interno di questo statuto, di questo catastro. Questo catastro era inedito, è inedito tuttora, però due o tre persone l'hanno letto, ma non l'hanno menzionato. E questo perché? Perché ne hanno tratto, secondo me, una interpretazione un po' forviante. Ci presentano Ichigi come i padroni cattivi, che per carità erano padroni, cioè non è che... Però dargli anche, mettergli in mano anche la cattiveria, secondo me aveva senso in un periodo in cui politicamente poteva essere valido fare sta lotta di classe a priori, dichiararsi proletari già dal Seicento. Oggi secondo me non ha molto senso, bisogna andare a guardare, ma non ha molto senso comunque, perché bisogna andare a guardare la storia nel suo contesto. Questi erano feudatari, avevano comprato Formello 25 anni prima, si erano resi conto che c'erano tante discrepanze tra la realtà dei fatti e quella delle carte e indicano un catasto al quale tutti partecipano, poi qualcuno non partecipa e Ichigi si occupano di fare i conti loro. Ma da questo catasto ne esce fuori uno spaccato della vita, un po' come dallo statuto esce fuori lo spaccato della vita, da questo catasto integrato con alcuni documenti esce fuori uno spaccato veramente affascinante, soprattutto perché appunto mirato all'anno, altrimenti sarebbe stato complicatissimo cercare di fare un annali diciamo di Formello, se qualcuno si vorrà occupare di lavorare su altre annualità io sarò ben contento, ma qui insomma c'erano tanti documenti. e così insomma tra i vari proprietari di beni per esempio ci sta il Duca Salviati. Allora tutti voi sapete a Formello che cosa sia la Selviata che è un quartiere nuovo, una nuova zona di espansione, io ho scavato moltissimo lì per tutte le nuove costruzioni che sono state fatte e ho insomma sono entrato nell'ottica di comprendere quello che è caratterizzante della Selviata ovvero l'attraversamento del cunicolo di Fosso degli Olmetti che in qualche maniera modifica il paesaggio e tutti i lavori che sono stati fatti per realizzarlo. Ma la Selviata è anche il casale Selviata cioè quel casale che sta accadendo a pezzi dimenticato da tutti in mezzo a tutte case nuove che è un vero peccato perché il casale è antico forte qui non vi dico nulla ma insomma nel 1686 il casale era ancora del duca Salviati e quindi il casale Selviata è una contrazione doveva essere il casale dei Salviati non Selviati ma Salviati il duca Salviati era un personaggio potentissimo che addirittura si mette in mezzo aveva già delle proprietà formello e quando i chigi vogliono comprare formello campagnano sacrofano e cesano lui si mette in mezzo facendo un'offerta che è un'offerta a Papa Alessandro VII non convince perché lui diciamo non aveva tutti i soldi che servivano per acquistare questo grosso territorio e capisce che dietro ci stanno i borghese che volevano comprare loro formello eccetera eccetera e allora con uno stratagemma che poi vedremo in un'altra occasione e lui impedisce questo acquisto e poi comprano i chigi a quel punto Alessandro VII come i chigi insomma si occuperanno di ricomprare vari pezzetti della campagna la mola di formello e la valle di Baccano che erano stati già venduti dagli orsini ad altri proprietari prova a ricomprare anche il casale dei salviati e questi non glielo vendono perché quindi fanno e quindi sto duca salviati rimarrà proprietario e rimarrà appunto il nome nel casale salviata che poi diventa casale selviata e quindi la zona diventa selviata questo è un piccolo racconto dei mille che si possono fare da questo documento ma insomma una cosa anche carina da dire è come però che abbiamo parlato poco abbiamo parlato molto di come era la vita nella formello del 500 e studiando alcuni proprietari un po' particolari citati in questo catastro ho trovato le compagnie laiche le compagnie laiche erano delle associazioni culturali dell'epoca che diciamo potevano essere veramente paragonate a queste associazioni culturali perché avevano dei libri dei soci avevano degli statuti e cosa di cosa si occupavano si occupavano della gestione di singoli culti culto di un santo culto di una per esempio c'è la compagnia del crocifisso la compagnia del gonfalone di san sebastiano e tutta una serie di piccoli culti la gestione delle cappelle private scusate le cappelle insomma all'interno della chiesa di san lorenzo accompagnavano durante i funerali cantando e venivano in parte pagati con un obolo che però è abbastanza fisso per cui la compagnia del crocifisso prendeva sempre otto insomma otto giuli no prendeva sempre la stessa cifra e quindi c'era una tariffa per per accompagnare per creare un po' di movimento insomma i funerali con pianti lamentazioni canzoni ma chi partecipava a queste cose della compagnia insomma si guadagnava qualche giorno di indulgenza quindi qualche giorno in meno di purgatorio e quindi c'era un po' un doubt d'ess ma questi possedevano case le davano in affitto addirittura al parroco possedevano terre insomma erano una parte molto molto importante della società addirittura si arriva al 1664 quando allora ci arrivo al 1664 la confraternita del crocifisso e qui rispondo ad un'altra domanda che mi è stata fatta la confraternita del crocifisso deteneva per averlo costruito ex novo tra il 1661 e il 1664 con le sue rendite et con le limosine del popolo e con qualche carità e aiuto che ebbe dal signor Flavio Chigi che qui a questo punto partecipa l'oratorio della crocifissione che è praticamente quello che oggi a formello chiamiamo l'oratorio della natività quella chiesetta gialla con l'immagine diciamo azzurra della Madonna con quell'elemento ceramico che raffigura la Madonna sopra l'arco d'ingresso dove se entrate dove c'è la adesso non se entrate guardate il tetto trovate il simbolo dei Chigi Monticelli dei Chigi in alto sul tetto e qui vediamo che questa confraternita questa associazione culturale partecipa con i propri beni si costruisce questa chiesa diciamo c'ha un upgrade probabilmente si sposta dalla chiesa di San Lorenzo e da una cappella nella chiesa di San Lorenzo, si sposta sempre nella stessa piazza creando, costruendo una sua chiesa con le lemosine dei fedeli e con l'aiuto dei chigi che appunto ci metteranno il tetto. E questa era parte della socialità dell'epoca, era anche questo, perché lo troviamo? Perché qui 1544, ma queste compagnie erano precedenti addirittura allo statuto comunale, quindi sono le prime forme di organizzazione indipendente della comunità di Formello, dato che troviamo in una di queste confraternite la più antica carta che conosciamo a Formello, che è del 1536. Quindi insomma, ed è un documento della compagnia del Confalone, che poi si fece anche una sua chiesa in località San Sebastiano, poi dopo la modificò, la rifece e un incendio la distrusse. Ma insomma, queste sono tutte altre storie bellissime, sono troppe, è impossibile raccontarle tutte, spero, spero di aver dato a chi mi ha chiesto, insomma, con queste curiosità, uno spaccato, diciamo, di questo argomento. I documenti storici, ne abbiamo letti alcuni e abbiamo giusto dato un piccolo, piccolo assaggio di una cosa che spero di pubblicare presto. Perché? Perché lo spero, perché così poi dopo voi potete leggervela, perché io ho fatto un lavoro che ovviamente non sarà mai retribuito, ma a uno lo fa perché così lo dà alla comunità che in questi documenti, questo, questo, andatevi lì a guardare, e questo quando sarà, speriamo presto, ci sto lavorando, potranno essere una crescita. Perché conoscere, come vi ho sempre detto, quello che siamo stati, ci aiuta a comprendere chi siamo oggi. Vejentani sumus. Ciao.